La difficoltà di effettuare una diagnosi che sia tempestiva nei tumori rari è un problema che conosciamo, quindi poter accedere a una struttura che permetta di poter inquadrare rapidamente la malattia è sicuramente un passo importante e la consapevolezza della malattia e quindi la consapevolezza di tutto ciò che serve per arrivare rapidamente a prendersi cura del paziente è sicuramente quello che ci aiuta a combattere la malattia stessa.